A Roseto degli Abruzzi l'associazione Camper Club Roseto Mare Blu torna a sollecitare l'amministrazione comunale a creare una nuova area per lo scarico delle acque nere dei camper. Una problematica che persiste oramai da anni. La vecchia area di scarico si trovava dove ora c'è un cantiere abbandonato per i centri di raccolta e riuso di fiuti in zona fonte dell'Olmo. Ma da quando i lavori sono stati sospesi e abbandonati, Roseto non ha più un'area di scarico per i camper. Per questo motivo da anni i camperisti che arrivano nella cittadina costiera sono costretti ad andare a Pineto per lo scarico dei liquami. Normalmente i turisti itineranti sono gente che stanno in pensione, sono gente invalida, quindi è chiaro che hanno poche possibilità di movimento. Vogliono rimanere a Roseto e rimangono a Roseto, però poi quando sono costretti a mangiare, bere a Roseto e andare al bagno a Pineto non è una cosa bella perché devono fare 9 km andare e non rattornare. O si devono spostare con le biciclette, si devono spostare con le motociclette o con il camper stesso. Però per un turista che vuole rimanere qua 10, 15, 20 giorni è costretta ad andare ogni 3 giorni a Pineto per scaricare i liquami con la cassetta del camper. Signor Antonio, lei viene da Torino, sta andando in questo momento a Pineto perché deve andare a scaricare i liquami? Certo, purtroppo ogni 3 giorni tocca fare lo scarico e ci sono 8 km andare e 8 a tornare ed è un fastidio perché praticamente nonostante che paghiamo tutte le tasse al comune di Roseto come ringraziamento ci ha tolto anche lo scarico che avevamo e ci tocca andare via. Indubbiamente non è una cosa che facilita il turismo, adesso diciamo che magari i più affezionati ci tornano pure, però è chiaro che il grosso del turismo lo fa andare via e vorrei anche dire questo, che noi camperisti qualche soldino lo lasciamo pure qua. L'associazione ha anche evidenziato problemi di sicurezza stradale lungo il tratto del lungomare Trieste a Roseto Sud dove si trova l'area camper. Questa strada è abbandonata di se stesse perché hanno messo i limiti di 30 fino alle giostre, fino al campo giostre e dopodiché nessun altro limite è stato messo né delle gare, qui la gente sfrecciano di notte a 100 all'ora, ci fanno le corse, le gare ed è un pericolo pubblico.